Per la prossima edizione della Valle Bergamasche, valida per il Mondiale di Enduro, è stato raggiunto un compromesso che garantirà l'organizzazione della manifestazione e allo stesso tempo offrirà garanzie per il ripristino dell'ambiente e la sua tutela futura. Da settimane il WWF di Bergamo, il Museo Civico di Scienze Naturali e la sezione del CAI di Lovere e la sezione di Valle Camonica d'Italia Nostra erano sul piede di guerra, minacciando anche di chiedere l'annullamento della prova. Venerdì sera presso il municipio di Lovere le associazioni ambientaliste hanno incontrato gli organizzatori della manifestazione, il Motoclub Bergamo e i comuni interessati dai quali hanno ricevuto ampie rassicurazioni. Il WWF in particolare sosteneva che il metodo utilizzato per organizzare questa gara non garantiva né i cittadini né l'ambiente. Era però necessario trovare un'intesa anche perché le moto da enduro esistono e ci sono anche tanti appassionati. L'associazione si è anche concentrata sul ripristino dei danni ambientali provocati dal passaggio delle moto. Su questo aspetto il Motoclub Bergamo a garanzia degli interventi ha versato alla comunità montana dei laghi bergamaschi 35.000 euro di cauzione. Il CAI e il Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere, che hanno ottenuto una modifica al tracciato originario della gara, hanno sottolineato che per il futuro occorrerà avere un percorso attrezzato esclusivamente per questo genere di manifestazioni. Grazie all'intesa raggiunta le associazioni ambientaliste non presenteranno nessuna denuncia e quindi nel prossimo weekend potranno iniziare le gare. Il sindaco di Lovere, Giovanni Guizzetti, ha detto che saranno tre giorni di sport e di divertimento che offriranno una vetrina unica a livello mondiale per il comprensorio.